Le elezioni regionali del 12-13 febbraio 2023 dove hanno votato in Lombardia e in Lazio portano a casa un risultato oltre le aspettative, con un risultato chiaro nei confronti delle governi di centrodestra con la conferma di Attilio Fontana a Milano e con la nomina di Rocca in Lazio, ma soprattutto con un dato che dovrebbe preoccupare le segreterie politiche e soprattutto la democrazia italiana che è il fortissima crescita dell'astensione, oltre quasi il 60%. Ne parliamo in questa puntata di Focus, a tra poco dopo la sigla. Cari amici di Vivitalia TV, bentornati a una nuova puntata di Focus da parte di Stefano Elena e anche dal nostro esperto in comunicazione e analisi politica Gianfranco Merlin, in collegamento dagli studi di Trento. Buongiorno Merlin, bentornato a Focus. Buongiorno direttore Elena, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Senta Merlin, le elezioni in Lombardia e in Lazio si sono chiuse e hanno testimoniato una forte conferma del governo del centrodestra in Lombardia e anche una forte vittoria dentro e nel Lazio, ma soprattutto hanno evidenziato ancora una volta l'insussistenza di quello che è il terzo polo creato da Calenda e da Renzi e soprattutto l'evaporazione del Movimento 5 Stelle, che se ne dica il buon conte che credeva di poter vincere a destra e a sinistra. Da questo punto di vista, secondo lei, e soprattutto con una fortissima crescita dell'astensionismo, perché si è piazzato oltre il 60% sia in Lombardia che in Lazio, cosa ci dobbiamo aspettare per il prossimo futuro? E soprattutto perché l'appuntamento elettorale della Lombardia è solamente l'apertura di tutti gli appuntamenti elettorali che ci saranno nel 2023 perché tra poco più di un mese si vota in Friuli-Venezia-Giulia il 2-3 aprile per le elezioni regionali, per chiudere l'anno elettorale con un po' di elezioni comunali sparse in ordine di tempo a cavallo di giugno e soprattutto quelle regionali in Trentino Alto Adige verso la fine di ottobre, non c'è ancora una data chissata da questo punto di vista. Secondo lei, che giudizio si può trarre da queste elezioni? Sì, guardi direttore, bisogna fare un'analisi sotto diversi punti di vista. La prima cosa più eccratante è questa disaffezione da parte degli elettori. Abbiamo visto che più del 60%, dico 60%, non sono andati a votare. Ecco, io farei una piccola disamina riguardo questi elettori che sono rimasti a casa, non hanno ritenuto opportuno andare a fare il proprio dovere o quantomeno segnare le proprie preferenze per un partito o per l'altro. E io glielo dico, il motivo è abbastanza semplice perché hanno visto probabilmente che votando anche la Meloni, in realtà, non è cambiato nulla. Tanti elettori che pensavano di dire questa volta alle politiche cambiamo completamente e diamo il voto alla Meloni. Cambiamo, andiamo a destra, da sinistra, probabilmente gente anche di sinistra, ma soprattutto centristi, persone che, o imprenditori, o persone che volevano dare il segno del cambiamento, soprattutto del governo Monti, hanno cercato di dare il segno del cambiamento votando Meloni. Però hanno visto che Meloni non ha fatto nient'altro che ricalcare esattamente il programma che c'era prima. Però Meloni, però, da parte sua, ha subito cavalcato il risultato dicendo che è un rafforzamento del governo. Sì, direttore, lei ha mai visto un partito che ammette di aver perso il giorno dopo le elezioni? Assolutamente, si nega, anche di fronte alla realtà, è come un uomo che viene aperto con l'amante a letto e dice ma chi è questa qua? Non la conosco nemmeno, negare, negare, negare. Ma si dice sempre che è stata una vittoria mutilata da questo punto di vista per tirare fuori la buona anima. Ecco, ecco, esatto. No, diciamo sì, è chiaro che adesso fanno un po' di analisi. Dopo la verità, i partiti se lo dicono nel direttivo e se sono partiti onesti, corretti e hanno voglia di fare un'analisi va fatta all'interno delle sedi dei partiti, con i dati alla mano si fanno le analisi del voto, gli spostamenti e lì si vede dove è l'elettorato che ha cambiato direzione oppure che non è andato proprio a votare e il motivo. A volte possono essere i candidati che non sono piaciuti, sono stati discursi, addirittura a volte ci sono dei candidati che risultano antipatici, addirittura proprio anche, non lo so, il modo di parlare, il modo di porsi. Lei direttore sa che, faccio analisi politica, l'abbiamo fatta anche addirittura su dei candidati a livello amministrativo. nelle città abbiamo visto che c'era un candidato, e chiaramente non faccio né nomi né cognomi, ma perché lo porto come esempio, che non riuscìva, un candidato sindaco che, perché da un punto di vista professionale è anche bravo, anche è una persona conosciuta, però non entrava in sintonia proprio con i cittadini, una persona che è sempre stata vista staccata dai problemi dei cittadini, e pertanto quelle persone lì fanno fatica a ricevere il voto da parte dei cittadini. Senta Merlin, pare che questo suo giudizio qua sia tagli in particolare per i futuri candidati del Trentino Alpaggi, dove c'è un candidato presidente uscente della Lega che non vuole saperne di prendere finalmente atto del suo fallimento e che continua a voler essere rilanciato, però se lui viene rilanciato e ricandidato, sicuramente questo è il miglior viatico per far vincere le opposizioni. Sì, guardi, allora le dico una cosa, un candidato che ha appena governato perlomeno il secondo turno si propone e di solito è molto avvantaggiato perché ha ricevuto tantissima visibilità, è il caso probabilmente anche della Lombardia e probabilmente sarà il caso anche del Friuli Venezia Giulia, cioè dei candidati che hanno fatto bene, benino o discreto di solito tendono a essere rieletti per il secondo mandato, cosa invece che sembra non succeda qui in Trentino perché probabilmente il candidato che vorrebbe ricandidarsi ed è Maurizio Fugatti, probabilmente è messo in discussione addirittura dei suoi stessi alleati, perciò rischiano di non presentarsi con una formazione di centrodestra unita proprio perché c'è un rifiuto di accettare questo candidato che ha fatto crollare la Lega addirittura, ma non solo crollare, addirittura ha distrutto quello che c'era diciamo i militanti che hanno fatto un fuggi-fuggi generale proprio per il brutto rapporto che c'era all'interno del partito. Io la penso molto, la vedo molto grave, adesso ci sono due candidati che si sono schierati muro contro muro, tutti e due del centrodestra e a mio modesto avviso se non cambiano non dico che debba cedere né uno né l'altro perché ormai sono andati troppo in modo frontale si stanno scornando uno di fronte all'altro lì a mio parere l'unica soluzione per non fare il naufragio di tutto quanto il centrodestra e Trentino sarà quello di trovare un terzo candidato che vada bene a tutta la compagine del centrodestra per poter avere la vittoria perché a conti fatti il centrodestra in Trentino potrebbe avere la vittoria ce l'ha, anzi a numeri alla mano dovrebbe avere una maggioranza però potrebbe succedere la stessa cosa che è successo, si ricorda qualche mese fa a Verona, al comune di Verona che il comune di Verona è un comune di centrodestra aveva il 56% di maggioranza ed è andato a regalare la vittoria al candidato Tommasi di centrosinistra perché c'è stato uno scontro interno tra i due candidati che erano Tosi e Sboarina non so se si ricorda e lì c'è stato un caso clamoroso cioè due candidati centrodestra che avevano la vittoria in tasca hanno regalato la vittoria a Tommasi questo è un classico caso di insipienza della politica di cui è la storia piena però torniamo anche a livello delle relazioni della Lombardia e del Lazio perché sono cose di giornata mentre quelle del Trentino pur essendoci già accesa la campagna elettorale per ottobre 2023 è ancora un pochettino lungi dall'esserci una cosa interessante è il risultato delle varie forze politiche dei bilanciamenti perché se soprattutto in 5 anni fa in Lombardia la Lega era il 30% e quindi era il playmaker era il registro di tutte le situazioni politiche adesso si è più che dimizzata ha fatto sì sicuramente una piccola ripresa rispetto al dato delle politiche di settembre del 25 settembre però rimane in tutta evidenza che la Lega in Lombardia conta il 16% quindi la metà dimizzata rispetto al risultato del 2018 mentre il programma che aveva salutato Salvini come la nazionalizzazione del partito quindi l'abolizione del suffisso nord a favore della Lega nazionale anzi della Lega Salvini Premier sul Lazio pare che non gli abbia dato nessun vantaggio perché in Lazio la Lega ha preso solo l'8,25% 8,52% mi scusi i dati sono sempre ballerini e vale praticamente un quarto di Fratelli d'Italia che è al 33,62% ma è quasi simile a Forza Italia anche questa l'8,43% ecco secondo lei da questo punto di vista Salvini sicuramente l'ha sfangata perché tutti dicevano che se si fosse avvicinato alla soglia del 10% o fosse andata anche sotto la soglia la sua gestione della segreteria era segnata si sarebbe tornato a cambiare una segretaria e a ridare forse il lustro che la Lega merita nelle sue diciamo campagne politiche e a ridare diciamo una focalizzazione sulla politica del nord anche visto il risultato che negli ultimi tempi ha avuto a livello nazionale però di fatto per Salvini è scattato lo stellone italico e l'ha salvato secondo lei da queste elezioni cosa potrebbe scatturirne? Allora prima di tutto mi faccia fare un commento riguardo a Salvini che è nato con la camicia perché in questo momento lui in qualsiasi altro partito sarebbe già stato probabilmente esaltorato o destituito come segretario è andata bene per una famosa regola di della legge di questa legge elettorale che io definisco non rosatellum ma una porcatum perché ha dato a Salvini l'opportunità di avere tantissimi parlamentari in più rispetto alla percentuale di voti che ha avuto perché ha avuto un crollo ma ha avuto tanti parlamentari in più primo questo a suo favore ecco secondo a suo favore è che in questo momento non c'è un altro leader che lo possa rimpiazzare in questo momento ma la correggo Mirlin ci potrebbe anche essere però solamente che Salvini e la sua congra ha fatto piazza pulita di tutti coloro che potevano minimamente ambire di fargli ombra e quando un leader fa piazza pulita e pulisce fuori tutto il partito e si circonda solamente di yes man e di quacquara qualunque i risultati sono quelli che sono va a perdersi la capacità di fare politica di parlare con la gente e conta semplicemente l'occupazione delle careghe è un po' un brutto spettacolo anche queste cose che gli ideali all'interno dei partiti io adesso non voglio fare una questione di lega o non lega io vedo che quasi tutti i partiti il discorso degli ideali soprattutto quando si tratta di fare schieramenti politici gli ideali vanno come si suol dire a farsi non dico una brutta a farsi friggere diciamola così che è meglio nel senso che prevale poi gli interessi prevalgono gli interessi rispetto agli ideali e questo secondo me è una delle cose il talone d'Achile di questa partitocrazia io la chiamo partitocrazia perché questi stanno andando avanti infischiandosi veramente di quello che pensano veramente gli elettori perché già gli elettori hanno dato un segnale forte 60% di persone che non sono andate a votare ma si rende conto ecco poi non so se ha notato anche un'altra cosa la Meloni sta andando avanti con un discorso di dare armi e di fare sanzioni a Putin sapendo ormai la maggioranza degli italiani sono contrari ma la Meloni anche di questo se ne sbatte completamente e segue quelli che sono i diktat dell'Europa e dell'America loro sono coscienti che stanno facendo contro gli interessi del popolo italiano e quando facciamo questo tipo di sanzioni quando andiamo entriamo in questa guerra loro sanno perfettamente e tutti i partiti su questo tranne il 5 Stelle ma per una questione di convenienza politica sono tutti a favore del popolo mi creda ormai se ne fregano un po' tutti i partiti questa si chiama partitocrazia senta una cosa bisogna anche far aprire un pochettino lo sguardo mi scusi direttore no volevo dire mi sono dimenticato di dire che il povero Berlusconi questa volta ieri se non erro l'ha detta proprio giusta perché lui probabilmente non gliene frega niente degli equilibri o cosa ha detto le cose come stanno e ha fatto venire fuori l'itero lo suo vice che è anche ministro degli esteri italiani ha dovuto si è arrampicato su per i vetri per salvare capra e cavolo incredibile senta una cosa parliamo adesso anche del famoso terzo polo Calenda e Renzi abbiamo visto che in Lombardia soprattutto dove candidava come alfiere e le picche moratti che di per sé è anche una candidata di prestigio era anche una che aveva delle idee abbastanza chiare che non buca affatto perché la Moratti non va neanche oltre le due cifre 9,55 si ferma e tanti e tanti diciamo transfughi del Lega tra l'Orto Italia dicendo che si erano rifugiati tra le braccia della Moratti sono rimasti col classico cerino in mano ma soprattutto in Lazio dove il terzo polo di Renzi e di Calenda era coeso col centro-sinistra che supportava D'Amato che ha fatto un 33% quindi 20% di separazione rispetto al centro-destra di Francesco Rocca in Lazio ha preso solamente il 4,87% mentre in Lombardia ha preso azioni Italia Viva ha preso il 4,25% un 4% vuol dire essere praticamente a un passo dall'insussistenza essere un classico partitino come i Verdi e quant'altro che ormai sono quasi condannati alla estinzione si venga presente che la sommatoria di due partiti nel senso vuol dire due i due zoppi che non hanno fatto un'unità a camminare e mettersi assieme ma lì a mio parere probabilmente hanno anche sbagliato perché il loro peso elettorale lei sa benissimo intorno all'8 addirittura al 9% a livello nazionale io a mio parere non ero convinto dell'alleanza che ha fatto che hanno fatto in Lombardia con la Moratti perché la Moratti è una persona stimatissima per carità dopo può essere una persona magari qualcuno la può anche criticare però è sempre stata una persona molto coerente lei si ricorda direttore che l'abbiamo anche intervistata io con piacere mi sono fatto ripetere il suo programma sulla sanità che l'ho trovato veramente un ottimo programma per accorciare le tempistiche per coinvolgere anche i medici è una persona che sa dirigere ha un modo manageriale di fare politica e a me piace tantissimo questo modo di fare che non è fatto di politica di fuffa di tante chiacchiere ma di azioni concrete purtroppo questa abbinata tra una Moratti che è una che prende i voti diciamo un po' radical chic abbinata a un Renzi soprattutto Renzi secondo me è stata un po' penalizzata perché Renzi è visto un po' come una banderuola non è una persona che può essere abbinato alla figura di una Moratti ecco una Moratti è una persona stimatissima ed è coerente e lineare non mi sembra attettanto lo sia no Calenda diciamo si potrebbe anche starci lo vedo anche abbastanza coerente però lei sa che Renzi si gira si rivolta ha fatto un po' la banderuola e quando c'è questo tipo di atteggiamento gli elettori fanno fatica perlomeno ad accettare gli abbinamenti senta una cosa prima di chiudere questa trasmissione che stiamo incominciando ad andare un po' fuori il discorso del 60% degli estensionisti che è un dato veramente preoccupante soprattutto per un aspetto di democrazia di partecipazione perché se andiamo avanti così il potere politico e quindi le decisioni che contano per tutte le realtà locali regionali nazionali dicendo verrà gestito da una minoranza da una minoranza molto rispetta secondo lei a parte il discorso della ma direttore scusi faccia fannachiosa direttore allora scartiamo allora il 60% non ha votato rimane il 40% la percentuale del 50% diciamo in Lombardia che è rappresentata è un altro 20% pertanto vuol dire che è il 20% che in questo momento viene rappresentato e dà le carte al paese alla Lombardia è veramente poco dal punto di vista di autorevolezza io direi che è poco democratico aggiungiamo anche questo io lo trovo poco democratico secondo me e questa qua è il mio vecchio pallino per ridare agli elettori la capacità la potestà di decidere la politica e condizioni indispensabili è quello di cambiare la legge elettorale e di tornare a applicare per qualsiasi livello la legge dei sindaci e da questo punto di vista la legge dei sindaci ti dà la possibilità di scegliere a botta secca se uno viene bravo prende oltre il 50% e viene eletto al primo turno altrimenti si va al secondo turno e si siede tra il meno peggio da questo punto di vista probabilmente averci una legge sia a livello regionale ma anche a livello nazionale che fosse a doppio turno si eviterebbero quegli scandali di candidature di presentabili di slogan mascelle di proni a 270 gradi che abbiamo visto purtroppo anche in queste elezioni politiche del 25 settembre scorso e le persone elette persone elette senza nessuna arte né parte nessuna storia politica messe lì solamente a farlo schiacciabottoni il problema appunto è che questo modo di fare ha disamorato i cittadini dal dire andiamo a esercitare il nostro diritto dovere di votare e di partecipare all'indirizzo della democrazia e la cosa è preoccupante sia dal punto di vista democratico come dicevo prima ma soprattutto anche per la partecipazione per una democrazia sempre meno partecipata è probabile che si possa aprire la porta a qualche fenomeno di così assoltismo di poteri forti diciamo che prendono in mano le cose e da questo punto sarebbe estremamente opportuno che tutta la politica agisse non tanto domani quando ci saranno le elezioni ma agisse già adesso a cambiare la legge elettorale per toglier via il porcellum del ministro Calderoli che lui stesso l'aveva definito come una schifezza però negli ultimi 5 anni non si è mai riuscito a cambiare e ridare la mano veramente agli elettori ma poi soprattutto gli stessi partiti devono fare un atto di contrizione e di mettere nelle liste con un voto di preferenza persone che possano essere scelte dai cittadini non semplicemente persone piazzate lì in alternanza di genere maschio femmine maschio femmine tanto per complicere qualche fianciulla che non avrebbe né arte né parte e neanche capacità di essere elette se non avesse il listo di novità sono d'accordissimo su questo argomento perché ne avevamo parlato ancora l'anno scorso qui la legge elettorale andrebbe cambiata però purtroppo io le devo dare una brutta notizia non la farà il segreteria dei partiti non hanno voglia di portarsi in Italia ma è anticipato direttore purtroppo adesso se prima magari c'era un barlume di dire dai forse si mettono d'accordo per cambiarla in questo momento non ne hanno al potere non ne hanno nessuna interesse a cambiare perché va bene così perché riescono attraverso anche un'informazione diciamo veramente incredibile quello che io sto vedendo adesso sembra che l'economia vada a gonfie vele io sinceramente vedo un'altra realtà lei lo sa direttore che io sono un imprenditore tocco tutti i giorni una realtà completamente diversa da quello che vedo nelle televisioni nelle tv nel mainstream in questo momento ci sono aziende in difficoltà ci sono aziende che chiudono però qua si dice che va tutto bene che la Meloni sta andando benissimo è chiaro che loro a loro va bene così poi vede che riescono a mettere i partiti riescono veramente a imporre non a mettere a imporre i propri candidati che sono costretti a genuflettersi di fronte agli ordini dei partiti addirittura lei sa che quando uno viene eletto deve dare una percentuale che è stabilita dal partito la deve dare al partito pertanto su 12 mila euro devono dare 2-3 mila euro tutti i mesi devono dare al partito ma quello sarebbe ma il minore perché quella violazione del finanziamento pubblico ai partiti che era veramente una cuccagna per chi era a livello di gestiva i partiti le cose sono cambiate tant'è vero che al giorno d'oggi sono i gruppi parlamentari che al giorno d'oggi sono i deuses macchine di finanziamenti pubblici perché i gruppi vengono finanziati dai parlamenti e guarda caso in questa legislazione qua la legislatura qua il finanziamento dei gruppi sono addirittura raddoppiati il che la dice lunga e il problema è che la taglia diciamo che i partiti chiedono a qualsiasi eletto in qualsiasi organismo dai comuni alle province alle regioni nello Stato e persino nei consigli di amministrazione delle società questo non lo vedrei diciamo come un grande scandalo perché la politica costa direttore la chiamata taglia taglia se è sbagliato è una taglia è una taglia è una taglia è una taglia mediamente si va da un 10% fino a un 20% di quello che è il guadagno netto diciamo del deputato perché i 12.000 sono il guadagno lordo e dopo di che tra una cosa e l'altra il netto in busta paga sono 5.000 euro che sono tanti per uno schiacciabottoni qualsiasi senza altra ne parte però se dobbiamo andare a mettere dentro delle persone capaci dentro nella politica forse sono anche troppo pochi e da questo punto di vista io sarei favorevole a dire tu guadagni a fare il politico la media degli ultimi 5 anni che hai dichiarato hai dichiarato ogni anno un milione ti prenderai un milione perché forse vale un milione uno che ha dichiarato 20.000 euro o uno ha dichiarato zero reddito come tanti eletti della scorsa legislatura prenderanno zero reddito è interessante sapere magari un tipo come Di Maio quanto potrebbe guadagnare con questa sua teoria sicuramente sicuramente lo stesso cachet che prendeva al stadio San Paolo esatto no senta direte no io volevo solo aggiungere una cosa dopo magari concludiamo il discorso di questa forma di assentenismo che poi è collegato sul discorso di questa legge elettorale che è assurda e ormai a mio parere dovrebbe essere cambiata proprio di forza come una delle prime esigenze per rinnovare la politica ma molti elettori lo dicevo anche prima non sono andati a votare sa perché perché io quando vado assieme ad Annice o magari vado in un bar sento delle persone che parlano dicono loro ti dicono tranquillamente io non vado più a votare tanto chiunque voti non cambia più nulla non cambia più niente questo è il problema c'è perché mancano le personalità in grado di imporsi perché le segreterie nazionali non hanno voglia di avere personalità ma anche per tutto un insieme di cose allora cominciamo dalla legge elettorale cambiamola facciamo doppia turno sono d'accordissimo anch'io direttore doppia turno dà la possibilità di aggiustare le cose e di fare meno assembramenti impossibili perché poi alla fine con un turno unico i partiti devono fare degli incesti addirittura tante volte per restare in una maggioranza ma poi ci vuole la preferenza che la preferenza è stata dipinta come tutti i mali del clientelismo dicendo però almeno uno cittadino può votare dà il suo voto a una persona che gli sembra essere spiccata che abbia delle idee che abbia una rispettabilità perché il problema grosso è che tantissimi candidati non sono nulla sono solamente dei burattini nelle mani nelle mani dentro del segretario di partito e che è veramente un dramma da questo punto di vista Merlin dobbiamo andare a chiudere perché stiamo sforando da questo punto di vista mi pare mi pare comunque che il risultato sia sicuramente oltre a ogni ragionevole dubbio perché il 57% dal 54% della Lombardia e il 53% del Lazio il risultato è chiaro con un stacco deciso di almeno 20 punti rispetto ai competitor del centro-sinistra e ancora di più per quanto riguarda i candidati fuori dai due schieramenti principali vedremo adesso cosa verrà a formarsi le giunte perché soprattutto in Lombardia dove la Lega è stata depuenziata ci sarà il problema di tagliare tanti forze posti di potere a favore di Fratelli d'Italia ci sarà Forza Italia che non vuole essere ulteriormente ridimensionata perché altrimenti ormai si estingue del tutto e vedremo cosa offriranno a livello di governo le nuove giunte che dovranno nascere dentro i prossimi 30 giorni staremo a vedere direi che anche questa puntata di focus dedicata al commento un primo commento ai risultati elettorali va a chiudere ringraziamo i nostri spettatori e andiamo a rivederci alla prossima puntata con domani facciamo uno spoiler domani parleremo della direttiva in corso di approvazione all'Europarlamento con uno dei responsabili che sta seguendo il procedimento perché ci sono delle condizioni estremamente pesanti per quanto riguarda i possessori di manovra seguitici anche domani arrivederci a tutti arrivederci un saluto e arrivederci alla prossima puntata ciao arrivederci di nuovo a chiuderemo Autore dei sorrisi